157 tra droni e missili russi hanno colpito l'Ucraina venerdì, risponderemo, ha promesso il presidente Volodymyr Zelensky. Ma il tempo inondazioni nell'Europa centrosettentrionale preoccupa il livello dell'acqua dei fiumi in Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Lituania. Picco di sbarchi sulle coste italiane durante le festività natalizie, in quattro giorni 1500 persone soccorse in mare dalle associazioni umanitarie. La Russia ha lanciato una quantità mai vista finora di missili e droni kamikaze contro l'Ucraina nella notte di venerdì. È il maggiore attacco aereo dall'inizio della guerra, secondo l'aeronautica ucraina, il bilancio provvisorio è di decine di morti e di feriti. Sono stati colpiti il reparto maternità di un ospedale, scuole, un centro commerciale, edifici residenziali. Ha denunciato sui sociali il presidente ucraina Volodymyr Zelensky. Nel Mirino varie città, tra cui Kiev, Leopoli, Kharkiv, Zaporizia, Dnipro e Odessa. A Leopoli, nell'ovest dell'Ucraina, si contano diverse vittime, così come a Odessa, nel sud del paese. Secondo l'esercito, l'Ucraina è stata colpita da 36 droni Shahed, 98 missili da crociere, 4 antiradar sparati da caccia bombardieri e 19 missili balistici partiti dal territorio della Federazione Russa. 114 di questi sono stati intercettati dalle difese aeree. Decine di missili hanno raggiunto tuttavia la capitale, Kiev. Ci sono morti e feriti, secondo il sindaco della città, Vitali Klitschko. Tra i punti colpiti c'è la stazione della metropolitana di Luchianviska. Nella regione di Dnipro-Petrovsk è stato preso di mira invece un centro commerciale causando varie vittime. È stato colpito anche il reparto maternità di un ospedale senza conseguenze. In molte zone del paese è saltata la fornitura di energia elettrica. Mosca ha confermato venerdì di avere fatto partire un attacco massiccio con armi di precisione. Un attacco vile e indiscriminato, ha commentato l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell. L'Ucraina continua a lottare contro l'invasione russa, ma non soltanto con carri armati e artiglieria. Tra le varie battaglie provocate dalla guerra c'è quella per garantire ai ragazzi la possibilità di continuare ad andare a scuola. Molte strutture sono state infatti danneggiate dai bombardamenti e dai combattimenti sul campo tra i due eserciti. Così gli studenti sono costretti a trovare soluzioni alternative. Ora gli studenti più grandi utilizzano la scuola di un villaggio vicino, ma alcune aule sono state allestite anche in un centro culturale, grazie al sostegno di alcune organizzazioni umanitarie. Russia è molto intenzionale, molto sistemicamente attacchendo l'infrastruttura di un'infrastruttura di un giorno di questa grande invasione. E per ora Russia ha distrutto ogni 10 scuola nel paese, e non solo parliamo di istituzioni generali e secondari. Sono circa 1.500 le scuole che sono state distrutte dall'inizio della guerra e il totale continua a crescere. Donald Trump è stato squalificato dalle primarie presidenziali nel Maine in base alla clausola di insurrezione della Costituzione per il suo coinvolgimento nell'attacco al Campidoglio del 2021. Lo scorso 20 dicembre la Corte Suprema del Colorado aveva squalificato Trump dalle primarie nello Stato per la stessa ragione. La sentenza è stata emessa dalla segretaria Bellos. Per la prima volta un funzionario elettorale ha agito unilateralmente contro la corsa di un candidato alle presidenziali. La campagna elettorale di Trump ha criticato Bellos e ha fatto sapere che fa rappello ai tribunali statali. Angel Rojas e la sua famiglia sono stati costretti a lasciare il Nicaragua per il Costa Rica a causa delle minacce del regime di Daniele Ortega. Sono tra i primi 280 richiedenti asilo ad essere reinsediati in Spagna sulla base di un accordo con Canada e Stati Uniti per alleviare la pressione migratoria proveniente dal Centro America. Nel governo spagnolo si è impegnato ad accogliere centinaia di famiglie dal Costa Rica, migranti provenienti da Haiti, Venezuela, Nicaragua e Cuba, che così evitano di intraprendere il pericoloso viaggio via terra verso gli Stati Uniti. L'iniziativa statunitense a cui partecipa la Spagna mira a fornire forme di migrazione sicura. Più di 273.000 persone sono entrate irregolarmente nell'Unione Europea nel 2023. Le ONG avvertono che il nuovo patto europeo sulla migrazione non fa altro che complicare l'accesso all'asilo. Una nuova carovana di 8.000 migranti sta avanzando in Messico verso il confine con gli Stati Uniti. Solo un miglioramento delle condizioni di vita nei paesi di origine e nel lungo termine potrebbe fermare questo esodo. A partire dal giorno di Natale si è registrato un improvviso aumento del numero di migranti che arrivano sulle coste italiane, principalmente a causa delle buone condizioni meteorologiche. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, giovedì, in quattro giorni, sono stati registrati più di 1.500 migranti. Il giorno con il maggior numero di arrivi è stato mercoledì, con 723 persone sbarcate. Diverse navi di soccorso, gestite da associazioni umanitarie, hanno salvato centinaia di persone. Il primo salvataggio è stato effettuato la notte di Natale nel Mediterraneo centrale dalla Sea Watch, che ha tratto in salvo 118 migranti, tra cui diversi minori, il più piccolo dei quali ha tre anni. Anche il team di SOS Mediterranea ha soccorso in mare 244 persone mercoledì. Sea Eye ha invece salvato 106 persone nella zona di ricerca e soccorso maltese. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sono più di 260.000 le persone che hanno attraversato il Mediterraneo e hanno raggiunto l'Europa dall'inizio del 2023. Alcune zone dell'Europa centrale e settentrionale continuano a essere alle prese con le inondazioni causate dalle forti piogge degli ultimi giorni. I fiumi hanno rotto gli argini in molte zone, allagando le case e provocando evacuazioni. A Budapest, il Danubio ha superato gli argini raggiungendo il livello d'acqua più alto dal 2013, quasi 7 metri. L'inalzamento dell'acqua è stato provocato dalle forti piogge e dallo scioglimento della neve, causato da un clima eccezionalmente mite. Anche in Germania preoccupa il livello dei fiumi. A Dresda l'Elba è quasi 4 metri sopra il suo livello normale. Durante la settimana, nei Paesi Bassi, sono state rette diverse barriere antialluvioni per arginare il fiume Issel, che stava salendo a un ritmo di un centimetro l'ora. In previsione di forti precipitazioni, si prevede un aumento delle acque alluvionali anche nella Lituania occidentale, che ospita il delta del fiume più grande del paese. È la seconda volta in due mesi che i fiumi raggiungono livelli d'acqua critici. Caracas ha ordinato alle forze di difesa di effettuare alcune esercitazioni militari nei Caraibi orientali. Il presidente Nicolás Maduro ha decretato il dispiegamento di 6.000 uomini nella regione, dopo che il Regno Unito ha reso noto che invierà una nave da guerra nell'Esekibo, una porzione di territorio al confine contesa tra Venezuela e Guyana, ricca di giacimenti di petrolio a largo delle sue coste. L'arrivo dell'imbarcazione britannica è stato percepito come una minaccia da Maduro, dopo che il Regno Unito ha dichiarato l'intenzione di condurre operazioni congiunte con Georgetown. Ogni 28 dicembre gli abitanti della città di Ibi, nel sud della Spagna, fanno scorta di farina e uova per una festa che risale a 200 anni fa e che si svolge nel giorno degli innocenti, la versione spagnola del pesce d'aprile. Vestiti in uniforme militare, i partecipanti conosciuti come gli infarinati hanno inscenato un finto e disordinato colpo di Stato nella cittadina vicino ad Alicante. Gli infarinati riscuotono multe dagli abitanti del luogo che osano infrangere le nuove folli regole e tutto il denaro raccolto viene devoluto in beneficenza alla fine della celebrazione. Cosa accade lungo le frontiere interne europee quando quelle esterne sono sotto pressione a causa dell'aumento dei flussi di migranti? Ovvero quando Lampedusa è al collasso, cosa accade a Ventimiglia? La porta occidentale d'Italia verso il nord Europa. Per capirlo sono venuta proprio a Ventimiglia al confine tra Italia e Francia. L'ultimo 15 chilometri sono una violenza psicologica e morale soprattutto da parte dell'Europa. nei confronti di gente che ormai non può tornare indietro. Tutti, nessuno è escluso. Se sono arrivati fino in frontiere e sono stati rifugiati dalla polizia francese vogliono tornare in stazione per ritentare. La guerra è al entorno di 80 interpellaci quotidiennes. Il record è 300 interpellaci nella stessa giornata. E' una strage continua, silente, che ovviamente non ha le proporzioni di quella del Mediterraneo ma che purtroppo avviene qui anche al centro dell'Europa. Grazie a tutti.